E a questo punto il saluto da parte della FIPAB lo facciamo fare dal Presidente del Comitato Provinciale qui dietro al tavolo, Mariano Fabio Carboni, che introduce i lavori e poi partirà un video di presentazione. Allora io ringrazio tutti i bambini per essere presenti qui con noi, a cominciare dall'autorità, dal Delegato Provinciale Coni Armando Vincendis, dall'Assessore allo Sport Nassinano Bruni, nonché un carissimo amico, al Presidente regionale Franco Brasile che in questo periodo ci avvicino e risponde a tutte le iniziative e a tutti gli inviti che noi gli rivolgiamo. A lui poi dopo lasceremo la parola più tardi per un saluto perché ci fa piacere. Ringrazio gli additti dalla stampa, tutti quanti per essere presenti e la società del Comitato che ci hanno onorato e ci onorano nella loro presenza. Perfetto. Allora, velocemente ci spostiamo in un posto alla console del portico perché mi ha la sintetica che introduce un po' i risultati per il 2014 per proiettare. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. appunto l'oggetto, il cuore, il centro pulsante di questa che non è una conferenza quanto proprio una presentazione stampa di questo comitato ai giornalisti e al territorio. Allora Mariano illustraci, Fabio illustraci pure. Allora il comitato ha preso il via, diciamo si è insediato ufficialmente il 22 di dicembre con l'elezione del nuovo consiglio avvenuta dopo un periodo di commissariamento a cui era stato sottoposto il comitato da febbraio 2014 a tutto novembre 2014. Noi abbiamo preso le redini di un comitato dal commissario, un comitato sano, un comitato che lui ha tenuto in vita, che lui ha portato avanti con l'aiuto di tutte le commissioni che fino a quel momento hanno operato, quindi al loro, al commissario federale nonché delegato nazionale Marco Paolini per il nostro ringraziamento, il ringraziamento più personale, vicepresidente di tutto il consiglio. E da lì abbiamo cominciato, siamo stati eletti il 22, siamo stati tenuti a battesimo e perciò l'abbiamo voluto fortemente qui con noi dal delegato provinciale del Coni Armando Vincenzi perché quel giorno, il giorno delle elezioni era lì con noi. Quindi per noi è un pochino, oltre che un amico, è anche un punto di riferimento perché è stato un grande sportivo, è stata una persona da cui trarre esempio. E abbiamo iniziato il percorso, questo percorso che è abbastanza lungo, di impegni, importante, l'abbiamo lasciato dove ci sono state le attività fatte nel 2014 di un certo rilievo. Abbiamo tenuto qui ad Ascoli proprio la finale nazionale 3x3, che hanno visto la partecipazione di numerosissime squadre da tutta Italia e anche ad Ascoli abbiamo tenuto l'anno scorso un test nazionale Unioris nella palestra di Monticelli della nazionale contro la Polonia se non sbaglio. E quindi sono stati due avvenimenti importanti che hanno dato seguito a tutto il lavoro svolto fino a quel momento. E da lì ricominciamo, perché comunque abbiamo delle attività in cantiere veramente importanti e impegnativi. Come l'anno scorso siamo onorati di riavere nuovamente una finale nazionale, è stata assegnata al nostro comitato tramite il comitato regionale la finale nazionale Under 14 femminile e maschile. La discuteremo sul territorio della provincia di Fermo, Fermo per l'esattezza la sede principale sarà Porto San Giorgio e collaborerà con la città di Fermo e con le zone limitrofi. Quindi voglio dire, è un altro impegno di un certo spessore. Poi avremo un altro evento, praticamente avremo il Sitting Volley, una rappresentativa di Sitting Volley che lo stesso agirà nelle zone del territorio Porto San Giorgio e del Fermano. In più sulla città di Ascoli avremo due impegni di un certo spessore. Un progetto guida per le scuole che sarà, tra virgolette, capitanato da una delle società più importanti che c'è nella nostra città, se non addirittura in questo momento la più importante, l'Ascoli Volley 86, Avis Ascoli 86 per l'esattezza. E quindi tramite loro, tramite il risultato che loro hanno ottenuto la passata stagione, convoglieremo le iniziative che confluiranno sulla scuola, sullo sviluppo all'interno delle scuole e sulla promozione all'interno delle scuole, che si allaccerà al discorso delle scuole federali pallavolo, che è un altro fiorallocchialo di questo comitato e insieme a questi due avvenimenti sfrutteremo anche un altro grande circuito di sviluppo per le attività promozionali giovanili che è il giocavolley, che noi da due anni di un certo livello e in più negli anni precedenti stiamo sviluppando e portando avanti. Anche questo sarà un modello, un prototipo guida un pochino per tutta la regione. Quindi queste sono tutte iniziative, dalle finali nazionali, dalla presenza del nazionale di sitting volley qui nella nostra zona, all'attività che poi faremo anche nel beach volley e verrà illustrata dal nostro vicepresidente, sono tutti impegni, più la linea guida, più lo sviluppo delle scuole, tutto quanto sono tutti impegni che noi porteremo avanti nel miglior modo possibile, impegnandoci su tutti i fronti, cercando di fare nel nostro meglio e cercando di sviluppare in tutti i livelli, a tutti i settori, la palla a volo perché comunque come diceva l'assessore nella nostra provincia, nelle province di Asco di Vigiano e Fermo la palla a volo unisce, anziché dividere come è stato in passato la palla a volo unisce. Quindi siamo orgogliosi di aver tenuto in vita questo comitato, siamo orgogliosi di effettuare una congiunzione di iniziative sia sul territorio ascolano che sul territorio fermano e questo è il fiore all'occhiello del nostro lavoro.